L'approdo di Davide Alviti a Milano, peccato per l'Allianz, complimenti al ragazzo che entra nell'Olimpo del basket continentale, apre una rivoluzione molto più profonda nella nuova pallacanestro Trieste, timonata da Franco Ciani. L'operazione permetterà di incassare 50.000 euro di buyout, ma ha vietato parlare di tradimento. Cosa diremmo se un calciatore triestino andasse ad indossare la maglia di Juve, Milan o Inter? Bravo, appunto, e basta. Ora, il presidente Mario Ghiacci, a braccetto con il coach, ha l'onere di ricostruire il futuro. Si parte da Juan Fernandez, l'italo-argentino, e il play designato è l'uomo vitruviano al centro del progetto. Vicina la prosecuzione dell'accordo con l'ala Letton e Andres Grazulis, collante tra reparti nell'ultima annata. Si tratta in modo serrato anche con il centro-argentino Marcos Delia per chiudere l'accordo. Il primo colpo di mercato, ormai a un passo, dovrebbe essere quello che porta al lungo alto atesino Alessandro Lever, 23enne di 2,08 metri. Il giocatore è cresciuto nelle giovanili della palacanestro reggiana nel 2017, volato nell'NCAA. Quattro stagioni negli Stati Uniti, a Grand Canyon University, con la maglia degli Antierops. Ultima stagione chiusa con 13 punti di media, 5 rimbalzi e quasi 2 assist. L'accordo con il giovane centro, a quanto si apprende, lascerebbe libero uno degli eroi della promozione, come Matteo D'Aros. Per sostituire Alviti, anche se probabilmente con un ruolo di partenza dalla panchina, c'è l'ipotesi Fabio Mian, ancora impegnato nei play-off a Udine, per riportare l'Apu in A1. Ovviamente una promozione lo legherebbe presumibilmente ancora ai friulani, ma Trieste ci lavora. Detto che la società è intenzionata a costruire la squadra con il 5 più 5, e che le porte per il ritorno di Daniele Cavaliero restano aperte, il passo successivo sarà attendere la decisione sulla possibile partecipazione alla Coppa BCL. Non avrebbe senso muoversi prima per gli americani, poiché una rassegna europea aiuta ad attirare talenti di maggior livello.